La marcia indietro sicura, le ricorderà le frage, diceva non tocchiamo nemmeno un centesimo, abbiamo detto nulla, le affermazioni di questi attuali leader del nostro governo, è una buffonata da questo punto di vista, però ben venga che non ci sia una procedura di infrazione, questo non cambia nulla sul destino di questo governo e sul futuro che io auspico sia con un altro governo. Ma non c'è nessun aspetto della manovra che la convinca? No, nessuno, tanto è vero che sono arrivato così a dire non bisogna cambiare la manovra, bisogna cambiare questo governo fatto assolutamente da incapace. Io prevedo l'assoluta necessità di un ritorno a casa nel centro-destra di Salvini. Vedo una possibilità concreta, reale, di caduta di questo governo per abbandono della maggioranza da parte di molti componenti dei 5 Stelle, che di fronte alla previsione di un ritorno alle elezioni avrebbero delle convenienze assolute a non andare alle elezioni, dove metà di loro non potrebbe poi più essere ricandidata per la regola interna nel doppio mandato non possibile. Invece, se arrivassero a formare un gruppo autonomo a sostegno di un governo di centro-destra, resterebbero in Parlamento ancora per 4 anni e avrebbero, tra l'altro, lo dico perché è evidente, il vantaggio di non dover più pagare 8 mila euro al mese al loro partito. Quindi resterebbero lì con un monumento parlamentare di 14 mila euro. Sembra che sia una discesa in giù rispetto all'interesse generale, ma conoscendo bene chi sono i parlamentari, credo che l'interesse privato prevalga sempre sull'interesse generale. Vuoi farmi così certo? No, perché parlo con i miei senatori che parlano con gli altri. Lei ha preso già contatti? Cioè, quando dice questa cosa vuol dire che già conosce i nomi di quelle persone che potrebbero essere interessate? No, conosciamo i discorsi che sono intercorsi tra diversi parlamentari del Movimento 5 Stelle e i nostri senatori. E allora, queste le parole di Silvio Berlusconi all'ennesima presentazione, possiamo dire così, del libro di Bruno Vespa. Insomma, ha detto tante cose, legge di bilancio, il rapporto con Salvini. Questa, noi abbiamo titolato in maniera molto semplice, campagna acquisti nei confronti del Movimento 5 Stelle. Insomma, parleremo di questo, ma parleremo anche del Ponte di Genova e delle grandi opere. Do il buongiorno a Luca Carabetta del Movimento 5 Stelle. Buongiorno. Che sorrideva moltissimo quando vedeva il contributo, ma poi chiedeva. Sembra molto simpatico. E vedo da Genova collegato il Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti. Buongiorno. Buongiorno a voi. Toti, che conosce molto bene Berlusconi, come lo trova? In forma? Beh, sicuramente fisicamente l'ho trovato tonico. E delle parole che ha detto per quanto riguarda sia la legge di bilancio che di Salvini, cosa pensa? Beh, sulla legge di bilancio molte perplessità le ho anch'io per la verità, così come le hanno i comuni. Stavo parlando stamattina con importanti esponenti del Comune di Genova, che hanno tutte le difficoltà, che hanno anche gli altri comuni, che hanno denunciato gli altri comuni, così come ho la perplessità sull'aumento della spesa corrente, non tanto sul debito PIL, che tutto sommato è il deficit PIL. Trovo abbastanza naturale che in un momento di recessione si vada maggiori investimenti. Temo che siano fatti abbastanza male. Sulla campagna acquisti non so francamente che cosa dire. Abbiamo qui un esponente elemento 5 stelle e poi lo chiederemo anche a lui su questo. Ma sì, ma non credo sia un buon viatico per formare un governo, insomma. Non è certamente quella la strada. La verità è che questa manovra è fatta molto male, ma nei partiti tradizionali di governo, quelli diciamo a vocazione di governo, che hanno governato tutta la Seconda Repubblica, compreso Forza Italia e PD, non vedo francamente al momento una ricetta tale da far cambiare idea agli elettori di partiti che oggi stanno a governare. È rimasto con noi Roberto Orditti, che le vuole fare una domanda. Sì, infatti, saluto il Presidente Totti. Ma ho per lui questa domanda. Intanto bisogna riconoscere a Totti di avere, anche pagando qualche prezzo politico nei mesi alle nostre spalle, molte volte, diciamo così, cercato di imporre una strada diversa, un'architettura diversa della coalizione di centrodestra. Ma io, ascoltando Berlusconi nelle frasi che abbiamo poco fa mandato, io avrei questa domanda per Totti. Ma dentro Forza Italia e anche dalle parti del Cavaliere, nei suoi più stretti collaboratori, qualcuno ha provato a domandarsi perché Salvini fa una campagna elettorale insieme a Forza Italia e poi decide di fare il governo col Movimento 5 Stelle. Cioè, il vulnus del ragionamento di Berlusconi, secondo me, più grande, è che Berlusconi sembra ignorare quello che è successo nella primavera di quest'anno. E cioè che Forza Italia ha fatto una campagna elettorale con la Lega proponendo di fatto un'alleanza di governo che dopo le elezioni Salvini ha bellamente accantonato, pur mantenendo, come nel caso della giunta di Giovanni Totti, tutti gli accordi in sede regionale, per fare il governo col Movimento 5 Stelle. Nessuna riflessione si è svolta su questo. Perché? Arditti, buongiorno. Buongiorno, Carlo. Io credo che ci siano numerose aporie nel ragionamento di Forza Italia. La prima ragionamento è nato nella passata legislatura, sbagliato, quando abbiamo appoggiato una legge elettorale che evidentemente non consentiva la governabilità o rischiava di non consentire la cosa che è successo, pur di mantenere un equilibrio in cui nessuno perde, nessuno vince. Poi ci troviamo in Parlamento. Questo ritorno al proporzionalismo di cui Forza Italia è stato uno dei principali artefici. Credo che sia stata una paura di sconfitta che poi si è trasfrontata in una rotta, insomma. Questa è la prima cosa. La seconda cosa, credo che Salvini, resosi conto che non c'era la possibilità di un governo di centrodestra nei numeri, ha cavalcato una strada che era quella che indicava il voto degli italiani, cioè il cambiamento che ci piaccia o meno, e a me certamente la maggior parte delle idee non piacciono, il Movimento 5 Stelle per gli italiani ha rappresentato un voto di novità, di cambiamento, soprattutto di protesta verso ragionamenti che continuano ad essere uguali a se stessi. E Salvini, da politico furbo qual è, ci si è infilato dentro mantenendo la sua autonomia, mantenendo le amministrazioni regionali che certamente sono premianti, perché non sono la mia, Lombardia, Veneto, Friuli, sono regioni dove c'è un riconoscimento alla capacità degli amministratori, però si è infilato dentro una storia nuova del Paese. PD e Forza Italia continuano in qualche modo ad arrancare, a non riconoscere questa novità, riproporre delle ricette che sono tutto sommato ricette del passato, sia sul modulo organizzativo, la cooptazione dei dirigenti, sia sulla ricetta, la ricetta fiscale tipica degli anni Ottanta, che evidentemente non ha retto alla prova della globalizzazione e alle paure delle classi medie. Insomma, diciamo che mentre Salvini si è organizzato per entrare nella Terza Repubblica, che è giottacare magari un po' spregiudicatamente, ma da protagonista, quegli altri sembrano sempre rimpiangere tempi belli che furono, ma non mi sembrano attrezzati per costruire un futuro nuovo. Allora, la novità ce l'abbiamo qui in studio, che è Luca Carabetta per l'appunto. Allora, no, sulle parole di Toti, intanto sulla legge di bilancio ci torniamo più avanti, no? Ma appunto Toti stesso dice che fare campagna acquisti del Movimento 5 Stelle in questo momento e formare un nuovo governo non è proprio il massimo ora. Saluto anch'io Toti, che ci si vede sempre in trasmissione, non ho mai avuto l'occasione di incontrarlo personalmente. Possiamo trovare a metà strada verso Firenze, non lo so. Tra l'altro si riesce sempre a discutere col Presidente. Allora, il punto è che concordo con quello che ha detto rispetto al volere costruire un governo di transfughi. Se ricordiamo, dopo il 4 marzo, avendo uno scenario parlamentare molto frammentato, quella era una delle ipotesi che già circolava, quindi già un tentativo in questo senso è stato fatto. E non parlo di etica di fare un'operazione del genere, perché non sarebbe un granché. Poi, che il Quirinale anche non apprezzi un governo con una stampella che sarebbe una componente parlamentare formata da non si sa bene chi... Carabetta, aggiungo Carabetta sempre a spada di Damocle della penale di 100.000 euro, insomma. Comunque abbiamo la lunga tradizione di governi che si... Sì, però, cosa ha detto Mattarella? Io ricordo bene quei giorni lì, disse, molto meglio un governo formato da due forze politiche solide che si ritrovano in un contratto che non un governo forzato, appoggiato da una componente che non si sa bene da dove è. Nell'ordinamento italiano il Capo dello Stato prende atto delle maggioranze che si formano in Parlamento. Assolutamente, però come sappiamo il Capo dello Stato ha un ruolo molto importante in questo senso. Una precisazione su quello che ha detto Berlusconi, però, perché pare volere fare molto leva sul fatto dei soldi parlamentari, ha parlato di interesse pubblico e di interesse privato e ha detto che i parlamentari 5 Stelle danno 8.000 euro al mese al partito. Allora, tutti sappiamo com'è, ma giusto per dirlo a chi segue, personalmente io ho ceduto sino ad oggi, quindi dal 4 marzo, 12.000 euro di cui 6.000 euro che sono andati per il credito alle imprese e 6.000 euro alla protezione civile per quanto riguarda gli interventi per il maltempo e sono ben felice di averlo fatto. Chi ha aderito al Movimento 5 Stelle ha accettato un dimezzamento dello stipendio, una riduzione dei rimborsi. Sappiamo che i livelli degli emolumenti dei parlamentari sono molto alti, ma noi non li doniamo al partito, li destiniamo ad attività per i cittadini o, come nel caso dell'emergenza, li abbiamo destinati al maltempo. Quindi, in generale, noi abbiamo visto, sì, c'è stato un nostro deputato che è passato a Forza Italia, recentemente, dall'osso, che tutta la comprensione personale è un amico, quindi non voglio scendere nel dettaglio. Quello che io poi, però, voglio lanciare come provocazione anche al Presidente... Una piccola parentesi. Ci sta un tentativo da parte vostra, comunque, di parlare con lui, cercare di convincerlo? No, in Parlamento, comunque, alla Camera siamo tutti abbastanza vicini. O è stato una cosa... è stato un colpo freddo? Allora, io personalmente non sapevo di questa decisione. So che ci sono stati degli sviluppi in Commissione Bilancio, ha avuto a che fare con i nostri parlamentari, però anche noi è sembrata molto strano un salto poi così immediato da una forza politica all'altra. Spesso vediamo magari qualcuno che passa al gruppo misto, poi... Quindi, però, non voglio entrare troppo nel dettaglio anche per il rispetto personale. Invece, come provocazione, però, dico una cosa, che un problema del Parlamento oggi è che non rispecchia tanto le percentuali dei partiti in Parlamento, non rispecchiano tanto le percentuali dei partiti nel Paese. Perché in Parlamento Forza Italia è andata col 14, la Lega è andata col 17, se noi guardiamo oggi la fotografia del Paese, poi possiamo non essere d'accordo con i sondaggi, ma tutti i sondaggi danno Forza Italia sotto il 10 e la Lega sopra il 30. Questo fa parte un po' come la storia parlamentare che diceva Ditti, questo capita sempre. Più che il rischio di una nuova componente dei fuoriusciti del Movimento 5 Stelle, che se ne dica comunque siamo maggioranza e se siamo tutti maggioranza possiamo andare avanti fino alla fine, io vedo più il rischio, ma dico vedo, ma in realtà si sa, di parlamentari di Forza Italia che invece guardano alla Lega, perché la Lega si sta mangiando comunque buona parte della percentuale di Forza Italia. E sorride Toti, mentre ha fatto questa battuta a Carabetta? Scusate, poi non so, certo ognuno poi ha i suoi personalissimi interessi, paga di meno, non dà il gruppo, passa un partito più forte, va benissimo, io non sono un moralista, sono ormai vecchio della vita, diciamo per scandalizzarmi di queste cose e non sapere che sono di mondo. Oggi un componente del Movimento 5 Stelle, da molto tempo in rotta col suo gruppo, passa un gruppo consigliare in Liguria che appoggia la mia giunta pur non avendo assessori, quindi se è una persona che fa una riflessione personale, per l'amor del cielo, su 630 parlamentari e 315 senatori ci saranno ben più di uno che penserà alla sua vita e alle sue idee politiche in modo diverso da come ha cominciato questo percorso. Non c'è nulla né di male né di strano, l'assenza di vincolo di mandato serve a questo, anche se tutti i partiti della scorsa legislatura ululavano al fatto che andava tolto il vincolo di mandato, oggi pensare a un governo sostenuto addirittura da una componente parlamentare che senza essere col vincolo di mandato va a appoggiare un altro governo mi sembra una teoria astratta e abbastanza ardita anche moralmente, ma detto ciò, dopodiché che facciamo? Quando è nato un governo di centro-destra abborracciato con i soliti responsabili comprati qua e là comprati tra virgolette, non mi si consenta, convinti da un punto di vista della nobiltà e del loro sacrificio ad appoggiare un governo, dopodiché che si fa? Che fa il centro-destra? Che passo avanti abbiamo fatto verso la terza repubblica? Che risposte abbiamo dato ai cittadini? Quale risposta politica alternativa abbiamo dato al Movimento 5 Stelle che io credo debba avere un'alternativa politica nel centro-destra e specificamente in quel centro-destra moderato in cui mi sento di far parte, ma non credo che la si costruisca così, la si costruisca, credo, lasciando che questo governo faccia la sua politica e anche i suoi sbagli che sono molti, non voglio fare nessuno sconto a questo governo e dall'altra parte costruendo un centro-destra che guarda i prossimi vent'anni come geometria politica, come aggregazioni di forze, come selezione di classe dirigente, come idee, come bisogni, perché la verità è che se la Lega e i 5 Stelle oggi sono al governo è per una ragione molto semplice, i 5 Stelle perché la gente rastufa di vedere le stesse facce in televisione, le stesse ricette riproposte da 25 anni e la Lega è lì perché ha compreso dei bisogni delle immense periferie del nostro Paese come quello della sicurezza e dell'immigrazione che altri hanno sottovalutato un po' snobbisticamente dai loro attici dei parioli e del centro di Milano, questa è la verità, se i partiti come il mio non colgono questa verità e cosvinciano a costruire il futuro senza l'ansia di andare al governo, ma con una bella legge elettorale che ci consenta, quando finirà questa esperienza, ad andarsi a ricontare, e sono tutti cero il famoso profondo rinnovamento che chiede Toti. Siccome pochi conoscono e frequentano politicamente parlando Salvini come Giovanni Toti, io vorrei chiedere questo al Presidente Toti, se lui pensa che il Salvini che abbiamo davanti negli ultimi giorni, il Salvini Israele, il Salvini che convoca, che riunisce al Ministero dell'Interno i rappresentanti di tutte le organizzazioni imprenditoriali, se lo chiedo proprio a Toti che con Salvini ha sviluppato anche un ragionamento politico in comune anche quando molti lo contestavano a Toti questo fatto, se Salvini può a lungo continuare a fare tutto questo da Vice Premier e Ministro dell'Interno, perché io sono convinto che questo elemento che ha una sua quota di contraddizione a un certo punto da qualche parte dovrà trovare una qualche forma di esplosione o sintesi, però magari è solo una mia opinione personale. Cioè la richiesta deve scegliere, o fare una cosa o fare l'altra. Toti non ha battuta la risposta. Arditti ne sono convinto anch'io che non possa fare il Vice Premier di lotte di governo per così tanto tempo. Perfetto, sono chiarissimo. Tempi televisivi di Giovanni Toti che conosce benissimo il mezzo. Torniamo dopo la pubblicità, pochi minuti e poi rientriamo col dibattito di Omnibus. E allora torniamo in diretta per il dibattito di Omnibus. Subito un'agenzia, perché abbiamo parlato appunto della riduzione del deficit richiesta, portata a Bruxelles dal Premier Giuseppe Conte dal 2,4 al 2,04. È arrivata la risposta di Moscovici che dice che la riduzione del deficit italiano non è ancora sufficiente. Lo ha dichiarato pochi minuti fa, proprio relativamente alla quota 2,04. Quindi non ancora sufficiente. Vedremo se ci saranno altre dichiarazioni. A questo punto sembrava una partita in discesa. Chiedo subito una battuta a Carabetta e Toti sulle prime parole di Moscovici. Sino ad oggi quello che io ho sempre detto è che bisognava capire se l'opposizione dell'Europa era un'opposizione di merito, cioè non va bene perché dovete tagliare x miliardi, oppure un'opposizione politica. Cosa c'è successo ieri? È stata una riunione di più di due ore tra Juncker e Conte e si è deciso alla fine di una riduzione del deficit per portare a un taglio di più di 6 miliardi. E la cosa, non me lo nascondo, ma è chiaro che possiamo anche mantenere l'impianto delle misure che vogliamo fare, però 6 miliardi in meno comunque si sentono nella modalità applicativa e tutto. Allora a questo punto, dato che l'ansa è di questi minuti, a me continua a salire sempre più il sospetto che l'opposizione europea sia un'opposizione politica e non di merito, anche perché poi è vero che lo sappiamo la Francia ha un rapporto deficit-pilla intorno al 100% e quindi è messa meglio di noi, però loro stanno parlando di sforare il 3%. Noi l'abbiamo ridotto dal 2,4% vicino al 2% e ancora non basta. Allora a questo punto mi viene a dire che sia un'opposizione politica. Adesso sicuramente il Presidente del Consiglio e il Ministro dell'Economia faranno le loro valutazioni, cerchiamo di capire anche effettivamente che cosa voglia dire il Commissario europeo nel dettaglio, perché poi sapete che queste dichiarazioni vanno sempre un attimo interpretate, però se ci chiedono una misura di austerità alla Monti, beh, quello sicuramente non avranno. Totti, una battuta sulle prime parole di Moscoviciè. Io tutte le volte che sento Moscovici piuttosto che Katainen, piuttosto che Juncker, mi chiedo dove questi signori passino le loro giornate, in qualche grotta ovattata con qualcosa sugli occhi e i tappi nelle orecchie, perché in tutta franchezza sono dinosauri di un mondo che non esiste più, che sta sgretolando questo continente. La Gran Bretagna ha votato ieri per la Brexit. In Germania il loro più forte pilastro, la Merkel, è stata sostanzialmente acciaccata dalle ultime elezioni. La Francia è saccheggiata un sabato sì, un sabato anche, l'Italia al voto ha dato le maggioranze parlamentari che voi ben conoscete, in Spagna mi pare che ci sia un governo di minoranza, sto solamente parlando dei principali soci fondatori. Di fronte a tutto questo la mia morbosa curiosità è di che cosa si parli ai consigli dei premier in Europa e durante le riunioni della Commissione, perché se non si rendono conto che è un continente in grave crisi di identità e che ha bisogno di ben alte risposte che non queste stucchevoli liti su 204-207, io penso che veramente siamo fuori strada e che non ci vorrà l'impegno del Movimento 5 Stelle di Salvini per distruggere questa Europa perché sono capacissimi da solo di farlo costantemente, essendo anche protagonisti costoro che parlano di ere geologiche anche da un punto di vista della politica, Partito Socialista Europeo, Partito Popolare del passato. Dopodiché la nostra manovra non mi convince per nulla, non per i volumi di denaro e di deficit che produce, ma per come li si usa. Credo che non ci sia una politica industriale, credo che non ci sia una politica energetica, è noto la mia singolar tensione col Ministro Toninelli, con cui umanamente non ho nulla, anzi... In serio? Un attimo Toti, perché mi ha ricordato una cosa, sentiamo Toninelli. Adesso arriva? Niente, tempi tecnici... È un po' irritato anche nei contributi. Adesso questa cosa è facile da questo punto di vista, eccolo. ...qual ponte oggi era ancora lì perché è sotto sequestro e finché non è terminata la parte iniziale dell'incidente probatorio non è possibile toccarlo, quindi con l'autostrada non sarebbe cambiato nulla. Ma secondo lei è di fronte una persona per bene. Io se avessi fatto ricostruire quel ponte a chi l'ha fatto crollare gli avrei fatto guadagnare 43 morti causati dalla trascuratezza e dalla centralità che loro avevano solo sul denaro. Però Toti dice chi rompe paga, non guadagnare. Toti è uno sponsor di Autostrade per l'Italia, diciamolo chiaramente, è inutile che ci diamo in giro. Toti fa parte di Forza Italia e mi pare chiaro che continuamente abbia ribadito la necessità che Autostrade ricostruisse. Io non farò, ma come tutto il governo, perché la Lega ci mancherebbe d'accordo con noi, ma facciamo guadagnare milioni di euro d'autostrade che l'ha fatto crollare perché l'avrebbe ricostruito con le proprie imprese. Ma noi siamo il governo del cambiamento. Quindi Toti non è in buona fede su questa storia, secondo lei. Toti è vicino ad un sistema che fa parte di Forza Italia, mi sembra abbastanza scontato. È normale che mi contesti. Io a Toti direi le stesse parole che ho detto in aula. Continuo a contestarmi perché inizierò a preoccuparmi quando non mi contesterai più. Allora Toti, lei ha risposto su Facebook a Toninelli. Ricordiamo che oggi siamo, domani sono quattro mesi dal 14 agosto, e il 15 dicembre doveva essere la data come promessa da Bucci per l'inizio delle demolizioni. Intanto se mi vuole dire qualche cosa che non ha detto, che magari l'hai sfuggito nel video di Facebook a Toninelli, e poi a che punto siamo? Ma no, ma guarda, io non ce l'ho con Toninelli. Voglio essere sempre, come si dice, corretto nell'analisi dei fatti. Il ministro Toninelli è venuto qua, questo governo si è impegnato su Genova, ha fatto anche un decreto. Alcune cose vanno bene, altre vanno meno bene, però c'è stato un dialogo. Quindi nulla né di personale, è una questione squisitamente politica. Io ritengo che il ministro Toninelli e le infrastrutture sia inadeguato per la sua struttura di pensiero. Allora, io non voglio fare un regalo ad autostrade. Lui non si rende conto che il regalo ad autostrade l'ha fatto questo governo quando non gli ha chiesto di recuperare quel ponte, di ricostruirlo da capo sotto controllo pubblico. Una cosa che hanno fatto gli americani con British Petroleum quando c'è stato il disastro di Deep Horizon, quando la Costa Concordia è caduta contro uno scoglio del Giglio, diciamo così, è stata la Costa incaricata di pagare le spese e di organizzare il trasferimento di quella nave altrove per essere smontata. Quando l'oleodotto di una società petrolifera genovese ha sversato petrolio nel torrente Polcevera, poco lontano dal ponte, il primo atto che tutte le istituzioni hanno fatto è un'ingiunzione con i propri uomini di recuperare e di non solo riaggiustare quel buco nell'oleodotto, ma anche di mettere le squadre a ripulire il fiume a loro spese. Si è sempre fatto così nel mondo e sempre si farà così. E un'altra cosa è l'inchiesta. Quando lei fa un incidente stradale, la prima cosa che chiede a chi l'ha tamponata è il suo codice d'assicurazione. Poi toccherà ai vigili capire se quel signore era ubriaco, se ha rispettato il codice della strada. Il ministro sceriffo che decide le cose, penso che sia una visione populista molto semplice ma che non è efficace. Tanto è vero che stiamo tutti qua col fiato sospeso. Certo, diciamo che poi l'atteggiamento di autostrade non è che ha aiutato tantissimo. Perdonatemi, ma non è solo questo di Toninelli, perché questo è la prima cosa che salta all'occhio. Dopodiché la gronda di Genova che è la tangenziale che è stata fermata per colpa del PD per dieci anni. Io mi aspettavo dal governo del cambiamento un'accelerazione e ferma il ministero. Il quinto lotto del terzo valico che è già stato approvato dal Cipe. Quindi ci sono i soldi lì, ci sono centinaia di milioni di italiani. Non voglio rispondere su questa maniera di stabilità. Sono bloccati lì. Questo credo che faccia paura al mondo più che all'Europa. Il fatto di una legge di stabilità che sulle grandi opere non dice nulla, sugli investimenti dice poco. Tutte queste cose qui sono le cose indifendibili, no Moscovici? I 12-15 mesi per fare il ponte nuovo sono realistici? Ma io mi auguro di sì. Quello era il piano di autostrade che fu presentato quando io, da commissario alla ricostruzione, gli intimai di mettersi all'opera per ricostruire subito dopo, intorno alla fine d'agosto. L'autostrade presentò un piano dai 12-15 mesi con le proprie aziende, senza gare d'appalto perché poteva essere, come si dice, affidato direttamente per le leggi italiane ed europee, eccetera, eccetera, eccetera. Quando è stata scelta un'altra via io ho detto che non ero d'accordo, dopodiché collaboro lealmente perché avvenga. Marco Bucci, il commissario, non è solamente il sindaco della mia città, è anche un amico personale, è un mio compagno di avventura politica. Quindi io auguro buona fortuna e sono certo che è un uomo capace. Detto ciò, ora vediamo come funziona perché invece col percorso stabilito dal governo i ricorsi sono possibili e bisogna ancora capire esattamente le cordate come lavoreranno a ricostruire quel ponte. Io ho piena fiducia in Marco Bucci, un pochino meno nel pittoresco accrocchio legale che è stato costruito per fare quel lavoro. Allora, Carabetta, ha messo diversi argomenti sul tavolo Toti a partire dal ponte per arrivare poi alle grandi opere perché è questa la sensazione che sostanzialmente la difficoltà da parte del Movimento 5 Stelle, mi viene sempre questo lapsus del partito Movimento 5 Stelle ma so che ci tenete a mantenere la parola movimento a sbloccarsi da questo punto di vista in merito a questo, al tema delle grandi opere penso anche alla TAV, penso al referendum, penso a tutto quello che sostanzialmente è di costruttivo perché passa che il Movimento 5 Stelle è contro le grandi opere. Beh, lo è sempre passato in questi mesi e si è sempre data questa informazione qua. diciamo che il 5 Stelle è contro l'imposizione delle grandi opere che probabilmente è quello che è stato fatto sino ad oggi perché io stesso vengo dalla Val di Susa e conosco bene una comunità che non è stata mai coinvolta attivamente nella realizzazione di quell'opera o nella progettazione, nonostante, lo sappiamo, da vent'anni si manifesti contro. Quindi da un certo punto di vista c'è l'imposizione e dall'altro punto di vista, cioè quello che riguarda poi lo stato attuale cioè che diverse opere sono ferme, non nel senso che non si stia lavorando ferme nel senso che stiamo facendo delle valutazioni per qualche mese è perché queste grandi opere sono fatte con soldi pubblici. Quindi parliamo di miliardi dei cittadini. Allora, prima di spendere i miliardi dei cittadini noi questo metodo lo vogliamo usare da qui in avanti per le nuove opere che abbiamo in testa però anche su quelle attuali fare delle valutazioni. Ora, il terzo valico sì, è un'opera avviata nella sua versione definitiva la Torino-Lione, TAV, non ha ancora avviato i lavori definitivi tant'è che i bandi sono stati spostati a gennaio-febbraio ma dare alla valutazione delle grandi opere e quindi alla spesa di miliardi dei cittadini che poi magari vanno sui treni regionali e non trovano un buon servizio un metro scientifico imparziale per capire se quella grande opera sia prioritaria o meno dovrebbe essere un buon criterio, proprio di buon senso e un esempio che io cito sempre è quello del ponte sullo stretto perché allora vogliamo lavorare le imprese va bene, facciamo anche il ponte sullo stretto ma poi dobbiamo dimostrare che questa cosa effettivamente serva le grandi opere si fanno se servono C'è la speranza che il rapporto costi-benefici sulla TAV verrà pubblicato nel prossimo settimana? Sì, perché siamo in fase avanzata giusto per dare un'idea delle tempistiche Sì, per dare un'idea delle tempistiche la commissione, o comunque i tecnici della costi-benefici hanno iniziato a lavorare a luglio al Ministero dei Trasporti su diversi fronti per quanto riguarda le costi-benefici dovrebbe uscire prima quella del terzo valico e poi quella della Torino-Lione Teniamo conto che quando si valutano... Entrambe entro la fine dell'anno? Dovrebbe essere entrambe entro la fine dell'anno Teniamo conto... Allora, ricordo che il dibattito di Omnibus va avanti anche durante le feste quindi ci rivediamo qui prima del 31 Vorrei solo ricordare, per onore di verità nulla di male all'idea di un governo nuovo che vuole rimettere diciamo in fila le carte e vedere se è opportuno ci sta, io sono d'accordo su tutto nel metodo devo dire che di rapporti di questo genere ce ne sono già 5 o 6 cioè non è che nei 10... Su che cosa? Perché io su queste serie... No, ha fatto una discussione con Fassino come qui mi ricordo Un dibattito molto acceso Ci sono n documenti Allora noi abbiamo chiesto giusto per chiarirlo Io ho avuto una settimana fa un dibattito su queste serie con Fassino su questo tema che diceva sulla Torino-Lione sono state fatte 7 analisi costi-benefici Allora noi quando abbiamo chiesto alla Commissione Tecnica un'analisi costi-benefici abbiamo chiesto un documento con certe caratteristiche che adesso non abbiamo i tempi per parlarne Di questi documenti per la Torino-Lione ne è stato fatto uno nel 2011 e poi pubblicato nel 2012 dall'Osservatorio Tecnico Ci sono tanti altri documenti che però non hanno quelle caratteristiche Non c'è nulla di male nel fare un altro Noi ne vogliamo fare un altro e farlo fare per tutte le grandi opere questa Commissione Terza Toti, volevo intervenire su questo Ma no, volevo semplicemente dire che prego il Movimento 5 Stelle che è un movimento nuovo veramente di non come si dice sprofondare nel montismo e nel governo dei tecnici o non l'oggettività La politica non è solo oggettività La politica è soprattutto visione e costruzione del futuro Se Cavour avesse controllato probabilmente i traffici tra Francia e Regno di Sardegna quando è stato fatto il primo fregius avrebbe raddoppiato la mulattiera non avrebbe scavato una galleria che ancora oggi ci collega con la Francia Allora i costi benefici sono soprattutto il principio di responsabilità il fatto che il nostro Paese sia sottoinfrastrutturato ce lo dice il fatto che la nostra logistica costa circa il 30% in più della media europea più efficace e efficiente cosa che dico da una regione che rappresenta il 50% delle merci esportate e importate di questo Paese col suo sistema portuale Allora io mi aspetto una visione da questo governo non la somma algebrica di quanto cemento di quanti armature di ferro andranno nella TAV il fatto che l'Italia sia indietro sull'alta velocità sull'alta capacità ferroviaria sugli elettrodotti sullo stock di energia sui gasdotti ce lo dicono i conti quotidiani della nostra bilancia commerciale della nostra bolletta energetica nazionale e del costo della logistica che non è banale un biscotto prodotto a Biella arriva nella bocca di un cittadino europeo con un 15 20 30% in più di costi di un biscotto prodotto a Brema e sono soldi che sottraiamo agli investimenti delle imprese una domanda che devo fare a Carabetta in chiusura in generale io sono d'accordo sul fatto che fare infrastrutture sia una buona cosa però bisogna stare attenti molto attenti su quello che poi effettivamente si andrà a fare perché se facciamo un discorso così generico a questo punto davvero facciamo anche il pontio sullo stretto o facciamo tante grandi opere che non servono però le facciamo giù a me sfonda una porta aperta eh no ma lo so lo so io sono abbastanza convinto che Tav si farà ok e questo lo vedremo e voglio fare un'ultima domanda a Carabetta perché io sono molto incuriosito perché dall'11 dicembre su Rousseau ricordiamo la piattaforma telematica che usa il Movimento 5 Stelle adesso è online segnalazioni che leggo testualmente dal blog delle stelle è un nuovo strumento dedicato a tutti gli iscritti al Movimento 5 Stelle che potranno segnalare in maniera puntuale e tempestiva iscritti candidati e portavoci eletti che non rispettano i principi che stanno alla base del Movimento 5 Stelle cioè io sono iscritto al Movimento 5 Stelle sono un parlamentare vedo che c'è un altro parlamentare che non si comporta con nel codice etico che voi avete tutti quanti sottoscritto e lo segnalo e poi? noi abbiamo comunque degli organismi interni che servono a regolare tutti i rapporti con il codice etico quindi ad esempio la questione delle restituzioni noi sappiamo che in passato chi non ha dato i soldi che doveva dare alle imprese è stato buttato fuori dal Movimento 5 Stelle quindi se io so che Arditti non ha ridato i soldi indietro lo segnalo? teniamo conto che una segnalazione non è che poi fa scatenare per forza una fuoriuscita una segnalazione serve per rendere partecipe non solo agli altri portavoce ma anche proprio gli attivisti che magari vedono nel piccolo comune un consigliere comunale che vota una certa cosa e chiedono conto non è un po' una caccia alle streghe è un portare all'attenzione di chi si occupa di far rispettare le nostre regole interne dei comportamenti che possono sembrare scorretti poi non fa per forza scatenare un certo tipo di azione però tutti comunque siamo partecipi di una rete guardiamo agli stessi obiettivi se qualcuno fa qualcosa al di fuori di questi obiettivi uno lo segnala e poi noi prenderemo eventualmente prove di venire non ho più tempo purtroppo non ho più tempo io ringrazio Giovanni Totti Luca Carabeta Roberto Additi che è rimasto con noi tutta la trasmissione adesso la linea ad Andrea Pancani a Coffee Break noi ci rivediamo domani mattina buona giornata grazie a tutti